E spero tanto di aver visto cose che... della mia immaginazione, ma guardando appunto le foto pubblicate del compleanno di Fabrizio Colora per cercare di capire cosa sia successo, per vedere se in qualche modo si riesce a capire dove è stato taggato, nelle foto con la fidanzata, non so se è anche addirittura moglie, e mi è capitato di vedere nelle foto questa cosa particolarmente un po' sciocante. Allora, ripeto, non so se è stato io che ho immaginato cose, ma sembra che è stato pubblicato delle foto non adeguato per i standard di Instagram, e non so perché Instagram non ha allertato o segnalato le foto. Allora, ripeto, non so se è cosa della mia testa, o di fatto è quello che c'è nella foto. Ora, nella foto che pubblicherò sarà censurata perché mi sembra... Allora, ripeto, non so se è stato un'accusa...